Cominciamo subito dalla riete. Le stelle di oggi vi vedono soffrire. Forse si tratta solamente di un momento di stanchezza oppure di un attacco di pessimismo. Non crucciatevi troppo. Toro, avrete modo di chiarire malintesi, di trovare una soluzione per un problema che vi assilla, di godervi le piccole e grandi gioie della vita accanto a una persona speciale. I vostri progetti cominciano a prendere forma. Gemelli, le stelle vi osservano con equilibrio e voi invece siete irrequieti. Non date spazio alle inquietudini e non prendete decisioni affrettate. Fate passare il tempo necessario e date spazio alla chiarezza. Cancro, avete troppe idee nella testa e vi sentite confusi. Le stelle vi consigliano di rallentare e di rivedere le cose da un altro punto di vista. Così sarà possibile recuperare l'armonia necessaria per progredire e crescere. Leone, l'amore è al top. I singoli avranno ottime opportunità di incontrare una persona speciale. Chi è in coppia vivrà emozioni intense e indimenticabili. Vergine, vi sentite più leggeri e più propensi al dialogo. Voi non opponetevi al destino e approfittate delle buone occasioni che vi si presenteranno. Qualcuno vi osserva con curiosità. Bilancia, le stelle di oggi vi concedono serenità ed energia. Avete voglia di cambiamenti e di conferme. Fatevi avanti e non temete. L'importante è mantenere un atteggiamento equilibrato, delicato ma deciso. Scorpione, la giornata non sarà il massimo. Avrete piccoli contrattempi che potranno essere gestiti al meglio solo con una grande dose di pazienza e di calma. Le stelle vi consigliano di non cedere alle provocazioni. Sagittario, non siate cucciuti. Le stelle vi invitano alla moderazione e alla dolcezza. Ascoltate il pensiero degli altri. Qualcuno potrà darvi, non volendo, un consiglio inaspettatamente utile. Capricorno, oggi le opportunità si presenteranno copiose. Starà a voi avere la prontezza d'animo necessaria per cogliere il momento giusto. Non guardate al passato, dedicatevi con cura al presente. Acquario, le stelle parlano di grandi cambiamenti in atto e voi siete felici e soddisfatti. Le persone accanto a voi vi seguono con entusiasmo, avete energia da vendere. Starvi accanto dà la carica e ispira azioni ed emozioni. Fesci, è arrivata l'ora di dedicarvi a quello che vi interessa di più. Agite con prudenza ma con determinazione. I cambiamenti sognati non tarderanno ad arrivare.